Eccoci qua ragazzi, siamo ritornati con un pronostico gameplay, questa volta siamo qui con Inter Parma. Inter Parma appunto sfida che si giocherà domani alle ore 18, ultimamente giochiamo sempre sabato alle 18, quindi è un orario anche abbastanza comodo per me appunto per fare anche i post partite, dunque adesso ci vediamo dopo la formazione. Come potete vedere ragazzi ho fatto qui la formazione, questi sono gli 11 mi sembra titolari, da dove l'ho letto non lo so, però in teoria da dove ho letto questi sarebbero gli 11 titolari, dunque non mi dilungo oltre, ci vediamo in campo. Ecco ragazzi lo stadio San Siro visto da sopra, Inter Parma partita di Serie A team, ho provato, avrei voluto farla in una modalità un po' particolare, appunto non selezionando nessun controller e pensavo di poter decidere io le due formazioni, ma invece a quanto pare non è stato così, perché appunto dava le formazioni come decideva FIFA, non come decidevo io, porca vaca non so parlare, e quindi non mi sembrava una buona idea appunto farlo. Quindi questi sono i giocatori, gli 11 titolari, e io ritengo che possiamo schippare chi ha il 17. No scusate perché voglio troppo vedere chi ha il numero 17. Hakimi? No, è Gagliardini, ho preso il numero 17 perché ha Kimi la 5. Non lo so in realtà il motivo di questa strana decisione, però appunto come sapete ha Kimi ha la 2, e Gagliardini ha la 5, quindi non so perché qui su FIFA abbia lui la 17 e ha Kimi la 5. Comunque intanto è cominciata, subito ha Kimi, che riesce a mettere un Crawl Cross in mezzo, però non riesce qui a svettare Perisic, che l'ho fatto giocare come seconda punta, anche se probabilmente ci sarà Pinamonti a ricoprire quel ruolo lì e probabilmente rifiaterà Young. Attenzione qui al Parma con Cornelius. Prova per malo Darmiano, l'ex della partita. Gervinio, Bruckman. Occhio a Gervinio il tiro alto. Primo squillo anche dei Ducali con Gervinio. A cui tra l'altro è interessata anche l'Inter, che probabilmente a gennaio proverà l'assalto al giocatore ivoriano. E sinceramente a me piace Gervinio, diciamo che è un po' vecchio, ecco, però come giocatore mi stuzzica, ecco. Adesso a Kimi contro Gagliolo. A Kimi va sul fondo e però alla fine sarà calcio d'angolo per l'Inter. Fa Prozovic dalla bagnierina, esce il portiere del Parma, dovrebbe essere Sepe. Sì, è Sepe. Lautaro Martinez, Gagliardini. Anticipato qui Perisic. Adesso bastoni su Barella, che dovrebbe fare il trequartista Barella in questa sfida con Brozovic e Gagliardini in mediana. A chi ha da Kimi che mette in mezzo l'ennesimo cross e Perisic con una testa a punta la manda alta, sprecando così una buonissima occasione. Guardate qui! Ah, caspita! Era andato proprio in posizione per seguire la palla, però alla fine è anche disturbato dal difensore. Scusate ragazzi, mi avevano chiamato un attimo, non è passato poco o nulla, però adesso siamo di nuovo qui con la partita tra Inter e Parma che riprende con il passaggio sbagliato di Garmiana. Allora, Kuzka su Kulusevski, che non gioca più nel Parma. Guarda, scusate ragazzi per questo errore, mi sono dimenticato di toglierlo. Cioè, per esempio, ho tolto anche altri giocatori che non giocano più nel Parma, li ho messi in club tipo... che ne so, tipo club giapponesi, irlandesi, questi... un po' di squadre sconosciute, ecco. E adesso Barella, spazi chiusi, e allora Young prova ad andare a convergere in mezzo. Ma non arriva a palla per il... Allora Gagliardini su Lautaro Martinez! Il gol di Lautaro Martinez! Al minuto numero 21 l'Inter passa in vantaggio. Adesso vedete qui Gagliardini con l'imbucata di Genio su Lautaro Martinez, che si defila dal difensore del Parma e è appunto calcia dove non può arrivarci Luigi Seppe. Dunque, si riprende quello, non mi sembra per niente Luigi Seppe, non so chi sia. Però, sta di fatto che l'Inter è passata in vantaggio e ha sbloccato la sfida. Una sfida fino a quel momento molto combattuta, ecco. Però è importante qui il gol del riscatto del Toro, che sarà fondamentale anche perché arrivano dopo la brutta notizia dell'importunio di Lukaku e Sanchis, che l'ho messo in panchina ma non è ancora pronto, intanto Perisic riesce a un dribbling, ma poi qui commette fallo il difensore del Parma e allora sarà calcio di punizione. Dai ragazzi, dai Perisic, dai Ivan. Mettila dentro, se ho perduto troppo. Uh, caspita, vicino alla linea. Perché gioca a Colombi? Boh. Vicino, vicinissimo ai pressi della linea di porta, il portiere del Parma a Colombi la blocca. A me è successo una volta, mentre giocavo una carriera, che avevo tirato una punizione e il portiere era andato lì per bloccarla, se l'è buttata dentro. E quindi sarebbe stato bello se fosse successo anche qui su questo pronostico gameplay, intanto qui un lancio per Perisic, che ci arriva e non riesce però a tenerla in campo. Colombi. Bastoni, un altro ex della partita. Ci sono due ex che probabilmente saranno titolari nella realtà e uno è proprio Darmian che fa questo bel recupero di palla. Mi sembra addirittura che giochi centrale. Adesso devo rivedere un po' che formazione ho fatto, perché mi sembrava di aver messo De Vrij centrale. Yang sbaglia tutto, brutto, brutto, brutto. Non so perché abbia fatto questo passaggio così arretrato. Dovevo andare a cercare la punta, invece qui Bastoni rischia, però se la cava oltre le più rosee aspettative. Yang sbaglia di nuovo il passaggio, non è aggiornato oggi l'esterno inglese. E allora il Parma su Gervinio lo va a prendere De Vrij. Darmian! Porca vacca! Cornilius ha pareggiato il Parma. Però qui ha sbagliato proprio Darmian, ragazzi. Vedete qui Gervinio, un cross un po' alla cavolo di cane. De Vrij, cioè Darmian la spiazza via, la spazza via proprio dove c'è Cornilius, proprio dove non deve spazzarla, la spazza. E c'è Cornilius solo che la insacca. Brutto, brutto colpo. Non ci voleva proprio subire il pareggio in questo modo. Poi Cornilius, beh almeno non è Kulusevski, però... Però diciamo che non mi è piaciuto il modo in cui l'abbiamo subito. È stata un po' qui una papera dell'ex che stava facendo fino ad allora una buona partita. E poi qui però invece è stato disattento. Forse non aveva notato che c'era Cornilius in aria. Adesso occhio a Gervinio. Proprio Gagliolo. Gagliolo mette un altro cross in mezzo, però c'è Young. Questa volta è in anticipo. E allora Gagliardini. Gaglia, Gagliardini. Gaglia, Gagliardini. Su Barella. Barella, Barella, Barella lo vede. Ma cos'è sta roba qui? Io non uso praticamente quasi mai il passaggio filtrante. Non so se in questo caso ci fosse da usarlo, però... Diciamo che questi passaggi sono un po' frutto del mio gioco, diciamo. Ancora Barella. Su Achimi. Achimi veloce. Uh, rischia qui di perderla. Dai Achimi questa volta è buona, però arriva ottimo, con un ottimo attempismo il difensore del Parma. E qui siamo a ridosso del 45esimo minuto. Inter che proverà a portarsi la vittoria. Qui c'è Bastoni! Tiro assolutamente non pericoloso che viene murato dalla difesa romagnola o emiliana. Boh, emiliana mi sa. Darmian qui recupera sul suo ex compagno di squadra, Gervinio. Brookman. Irnani, però, non c'è più tempo. È finito il primo tempo, uno a uno. All'autaro Martinez risponde Cornilius. Non voglio stare nemmeno a analizzare troppo tattica... Troppo tattica... L'aspetto tattico di questa partita. Ci vediamo al secondo tempo. Riprendiamo dunque il match. Primo possesso palla questa volta è per il Parma. Riprendiamo dall'uno a uno della prima frazione. Qui recupera subito un buon pallone Brozovic. Gagliardini sull'autaro Martinez, su Perisic. Perisic. Spaglia più un po', però a chi mi riesce comunque a recuperarla? Barella, barella. Perisic! Con il tiro deviato! Buon inizio di secondo tempo dell'Inter. Andiamo qui Perisic. Perisic non è stato deviato, infatti. Però mi sembrava che... Comunque è stato disturbato dal difensore del Parma che... Non ha... Ha fatto sì che Perisic non facesse il classico tiro d'effetto sul secondo palo. Che fino ad ora ha giocato un po' male Perisic. Un po' malino perché... Comunque non è uno che ci fa sotto alla fascia. Non è una seconda punta, però... Adesso... Qui... Vicinissimo! Non ci arriva. Non voglio dire in un soffio perché era abbastanza lontano, però... Questa non era male come idea. Invece Gagliardini recupera un sacco di... Ecco appunto. Vabbè. Ah no! Era fallo! Ottimo lavoro! Quindi Gagliardini, come stavo dicendo, invece sta giocando... Sta giocando bene tutti i Vidal... Vidal, Nainggolan, Barella. Invece gioca Gagliardini che comunque il suo lo sta facendo. Adesso ho anche il Parma Ernanì. Però ha intercettato qui il bellissimo passaggio da De Vrai. Barella. Barella però qui viene prestato. Gagliardini è un bacacchio, Barella! Non sono in grado di pensare con la loro testa. Ma se vedi che davanti non c'è nessuno... Ma Dalla è in orizzontale! No, comunque non sono in grado di pensare con la propria testa. Devo farlo io. Però qui il Parma si difende molto molto bene. E l'Inter non riesce a trovare Varchi nella difesa. Sono comunque molto molto aggressivi. E qui se Barella sbaglia totalmente tutti i passaggi... Gagliardini sta giocando molto meglio di Barella. Però qui bene conquista un'ottima rimessa laterale. Prosovic. Non mi dà il comando di... Ecco. Ecco, è Vich. Qui lo sapevo, guarda. Era... Che non mi dava il comando di fare il passaggio. E allora io per sbaglio l'ho fatto due volte. Me l'ha fatto. Me l'ha fatto anche quando non era bisogno. Grazie FIFA. Sempre mi... Anzi qui è la Playstation. Grazie Playstation. Come sempre mi dà una gioia. Gagliardini! Era caduto il telefono, sto cacchio di telefono. Guardate qui Gagliardini si era liberato benissimo ma non riesce a concludere in rete. Ho caricato troppo il tiro qui perché pensavo di dover resistere a più avversari. Qui sbaglia clamorosamente Laurini Perisic. Palla alta ma mi sembrava che fosse anche stato trattenuto Perisic. No, non lo fanno rivedere. Vabbè, allora adesso faccio qualche caso. Ennesima interruzione di questo... Di questa partita. Però... Il vantaggio è che non devo proprio firmare tutto perché quello che non mi interessa lo posso tagliare. Infatti... Appunto quello che non mi interesserà ovviamente non lo vedrete perché taglierò tutto. Adesso attenzione che passa Corniglius, palla dietro, Andanovic, miracolo. Il Parma però non molla. Palla recuperata. Benissimo, meno male. Allora vai Gagliardini con il contropiede. Lattaro Martinez è attivissimo! Che si libera di due avversari! Mette un cross in mezzo! Ah, comunque prima ho fatto due cambi. Sono entrati Vidal per Barella che questa partita veramente non mi è piaciuto. E ho fatto entrare anche Sanchez per Perisic che... No, scusate, che cacchio dico. Ho fatto entrare Kolarov per Young. Anche se neanche Kolarov che fa tutta la fascia mi convince. Però... In discrezione dicono che hanno fatto questo e con Perisic. Si defila per mettere in mezzo un bel cross. Troppo arretrato, cacchio. Ce n'erano due che stavano scattando. Però per fortuna il Parma prima di quell'occasione clamorosa adesso... Non ha fatto trovare i nesti in area pronti a ricevere la palla. Però qui vedete come si strappa velocemente la palla ai giocatori dell'Inter. Perisic, mamma mia! Mamma mia Perisic! Quanto gioco male sto qui! E non so perché... Non so, è tardi per far entrare Sanchez. Io non sono come Conte che fai cambi sempre agli ultimi minuti. Kolarov. Dai. Perisic con il tiro! Colombi. Eh sì, so che dice fai cambi, fai cambi. No ragazzi, ormai gli undici sono quelli. Perché secondo me anche far entrare Sanchez, che poi non è nemmeno al meglio, qui... È un po' inutile, diciamo. Vidal. Arturo Vidal è su Gagliardini, Gagliardini lo mette in mezzo! Intercettata ancora dal portiere. Altro calcio d'angolo per l'Inter. Perisic! 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 Un tratto Caramor. Lex. Bastoni. Tarumartinez su Perisic! Perisic! No! Anche questa ti sei mangiato brutto! Vediamo qui, no, era pure fuori gioco, mamma mia, ne ha azzeccata mezza in questa partita oggi. È chiaro che anche se nelle probabili formazioni sarà questo, non lo metterò più seconda punta, perché evidentemente non gioca bene. Guardate qui! Perde tutti i palloni! Non è veramente tollerabile avere un giocatore così in campo! Ma come fallo! E dunque il Parma chiuderà in avanti, perché ha rischiato un fallo, e qui vuole addirittura in porta, Ernali. Dai ragazzi, adesso voglio un'azione bella ragionata, però abbiamo poco tempo, abbiamo poco tempo. Porta avanti il pallone, perché l'arbitro ci dia tempo, Perisic! 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 Ha rovinato proprio l'ultima azione, veramente non l'ho tolto, però avrei voluto, avrei veramente voluto, anche se avessi assegnato Sanchez che è mezzo rotto, però proprio non mi convince. Vedete qui, uno a uno, chiavica veramente Perisic oggi, malissimo! Bene invece, Gagliardini, male anche Barella, non mi è piaciuto. Darmian non ha giocato male, però l'assista con Anilius proprio pensava di giocare ancora nel Parma, non gliel'ho dato buono. Ah, c'è anche la grafica del... che non ti accettano il pareggio, però ovviamente noi terminiamo con un pareggio. E quindi il pronostico gameplay si conclude qui e io spero che vi sia piaciuto e ci vediamo domani con il commento post partita.